Eccoci ben trovati con un nostro approfondimento dedicato all'economia e il territorio, oggi è una puntata speciale, abbiamo un ospite d'eccezione, il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Siena, io do il benvenuto al professor Francesco Frati, ben trovato. Grazie per l'invito. Allora, ci tenevamo tanto, abbiamo parlato tanto di formazione, del rapporto fra il mondo dell'università e il mondo del lavoro con tanti imprenditori, con i rappresentanti di tante sezioni, in particolare con il dottor Locatelli della sezione metalmeccanica. La presenza oggi del rettore però la vogliamo condividere con voi non solo per parlare di questi temi, ma anche per parlare di alcuni eventi molto importanti che abbracciano tutto il mondo universitario e non solo, che andranno a dipanarsi nei prossimi giorni, proprio qua nella città di Siena. Allora, sarà un lungo weekend molto importante, rettore. Ci racconta un po' questa carrellata di appuntamenti. Esatto, sì. Mi permetterei addirittura di dire una lunga settimana molto interessante. Siamo a metà di una settimana che ha visto lunedì l'inizio della nostra scuola internazionale per lo sviluppo sostenibile, che si tiene al Santa Chiara Lab con una trentina di studenti da tutto il mondo, alla quale farà il suo intervento anche il professor Jeffrey Sachs, proprio questa mattina, che è presidente del Sustainable Development Solutions Network e professore alla Columbia University. Ieri mattina poi abbiamo inaugurato la Tre Giorni dedicata alla promozione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, i cosiddetti SDGs, con una installazione che è continuamente esposta in Piazza San Francesco e dove tutti i ragazzi, soprattutto i più piccoli, possono fare dei giochi con i quali imparano a rispettare di più l'ambiente e imparano i fondamenti di quello che nel 2015 l'ONU varò come impegno nei confronti del successivo quindicennio, la cosiddetta Agenda 2030 e i collegati 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile. In questi giorni poi, nella giornata di giovedì, si terrà la presentazione dei progetti del Comune di Siena nei confronti dello sviluppo sostenibile, mentre nella giornata di venerdì, nel coltire del Rettorato, i ricercatori dell'Università di Siena presenteranno i loro progetti, alcuni molto interessanti, proprio dedicati a cercare di perseguire i 17 obiettivi. Saranno quindi una settimana dedicata essenzialmente, diciamo così, ai temi dello sviluppo sostenibile. Sabato poi, il gran clou finale, sarà il Graduation Day, ancora in Piazza del Campo, torna in Piazza del Campo dopo tre anni di forzata sospensione a causa della pandemia. Avremo oltre 1.500 studenti, coloro che si sono laureati negli ultimi tre anni sostanzialmente, e la cerimonia che tutti gli studenti aspettano sempre con grande enfasi, perché è un momento di celebrazione per loro ed è anche il momento in cui l'Università e la città dà a loro il commiato. Un abbraccio. Esatto, ma anche un abbraccio e uno in bocca al lupo per quello che sarà il loro futuro. La cerimonia sarà in preziosità, inizialmente da un intervento del Direttore Generale della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per il Cipro e l'Agricoltura, e poi dal conferimento della laurea magistrale ad Onorem in Economia per l'Ambiente e per la Sostenibilità, per l'Appunto, al Professor Jeffrey Sachs. Dopodiché gli studenti saranno chiamati al palco per una foto con il proprio Direttore di Dipartimento e con il Rettore, e alla fine della cerimonia ci sarà il Lancio del Tocco, che chiude una cerimonia per noi molto piacevole, per gli studenti, dagli studenti sempre molto attesa, e che, come dicevo, rappresenta un po' il modo con cui la città saluta questi ragazzi che hanno studiato a Siena per due, tre, quattro, cinque anni e che avviano, chiudono una porta e aprono un'altra porta che sarà sostanzialmente la porta del loro ingresso nel mondo del lavoro, ingresso nella società e dove li porterà il futuro. Quindi questi appuntamenti in programma, in questi giorni densi di incontri, di stimoli, di riflessione, il tutto poi, come diceva giustamente il Rettore, in questa cerimonia che abbraccerà questi 1.500 ragazzi che hanno chiuso il loro percorso universitario con l'Università di Siena, che appunto stanno per approcciare il futuro. Rettore, da questi appuntamenti contingenti invece torniamo, facciamo un passo indietro, parliamo, siamo in un contesto, in questo format di approfondimento economico, dove dibattono gli imprenditori, è un tema che noi tocchiamo spessissimo, è proprio il rapporto tra la formazione e il mondo del lavoro, perché a volte i ragazzi si lamentano che devono lasciare il suo territorio per trovare degli sbocchi professionali, gli imprenditori spesso non trovano le figure di cui hanno bisogno. È stato fatto molto, si è avvicinato molto questa domanda e offerta, ma molto ancora è da fare. Qual è un po' la sua visione su questo punto? Beh, la mia visione è che negli ultimi dieci anni si sono fatti passi avanti straordinari su questo terreno. L'Università ha capito che era necessario stringere una collaborazione sempre più stretta con il mondo del lavoro, con il mondo delle imprese, con il mondo delle professioni. E gli stessi imprenditori, lo stesso mondo del lavoro, chiamiamolo così, ha capito che occorreva cominciare a dialogare con l'Università prima che i nostri ragazzi e le nostre ragazze uscissero e terminassero il proprio percorso. Questo ci ha fatto fare molti passi avanti, sia attraverso attività che attraverso strumenti anche legislativi. Penso per esempio ai contratti di apprendistato e alta formazione, che consentivano e che consentono tuttora ai nostri studenti, nell'ultimo anno del proprio percorso formativo, di effettuare un tirocinio retribuito in un'azienda, la quale poi ha la possibilità di confermare, come spesso avviene peraltro, questo contratto inizialmente a tempo determinato, in un contratto a tempo indeterminato, quando lo studente avrà finalmente conseguito il proprio titolo di laurea. Ma ci sono molte interazioni anche sul piano strettamente didattico, semplicemente della conoscenza di tanti settori del mondo imprenditoriale, attraverso incontri che noi stimoliamo e ai quali i referenti, i responsabili di queste imprese spesso partecipano molto volentieri, che iniziano ad illustrare ai nostri studenti quando stanno ancora studiando quali sono le prospettive per il futuro. Proprio perché all'inizio di questa intervista e in questa settimana si parla di sostenibilità, io non sottovaluterei un altro aspetto molto importante. Quando noi si affrontano i temi dello sviluppo sostenibile, spesso si tende a pensare essenzialmente alla protezione dell'ambiente, che ne è certamente uno dei pilastri. Ma quando si parla di sviluppo sostenibile lo si deve intendere in senso molto più ampio. E allora anche il mondo delle imprese è coinvolto e noi li dedichiamo un'attenzione particolare proprio perché si riuscirà collettivamente a perseguire in maniera molto incisiva gli obiettivi dell'Agenda 2030 solo se saremo tutti insieme. E quindi questo significa anche il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, sia in termini di, per esempio, risparmio energetico, che in termini di strumenti che possano rendere anche socialmente più sostenibile lo svolgimento della propria prestazione lavorativa. Ecco, non ci dimentichiamo mai che questo lavoro nei confronti degli obiettivi dell'Agenda 2030 deve essere fatto tutto insieme e certamente il mondo delle imprese gioca un ruolo fondamentale come tassello cruciale di questo impegno. Allora, si avvicina la fine del suo lavoro come rettore della nostra università quindi volevo chiederle due cose. Una, un po', non un bilancio ma quello che porterà nel cuore di questa esperienza così intensa, così anche complessa perché nel corso del suo mandato ci sono stati gli anni della pandemia quindi è cambiato il mondo è cambiato il modo di fare università l'Università di Siena tra l'altro è stata anche molto pronta nel rispondere a questa emergenza quindi è stato un percorso di vita e professionale credo molto intenso. La seconda domanda è quali sono a suo avviso le sfide importanti che l'Università di Siena ma più in generale l'Università e gli Atene italiani hanno adesso di fronte? Allora, per quanto riguarda il passato mi verrebbe da rispondere che mi porto dietro ancora la stessa soddisfazione che avevo lo stesso sentimento di gioia profonda e di orgoglio che avevo quando fui eletto come rettore quando mi resi conto che per sei anni avrei rappresentato un'istituzione importantissima non soltanto in città ma nella società moderna di questo terzo millennio quella gioia quella soddisfazione quella gratificazione quell'orgoglio fanno ancora parte dei miei sentimenti in qualsiasi differente aspetto della mia attività quotidiana quindi questo è veramente il primo grande ricordo che mi porterò dietro e poi ci sono tanti eventi ovviamente che si sono succeduti durante il mio mandato che ognuno a suo modo mi ricorda un po' questo periodo penso per esempio non lo so al primo graduation day tre anni fa in piazza del campo con quello straordinario bagno di folla penso al conferimento della laurea non riscausa a Piero Angela penso alla soddisfazione di aver aperto molti corsi di laurea nuovi penso al corso dell'area in agribusiness ancora una volta pensando al tema di come l'università può essere più collegata con il mondo con il mondo delle professioni penso anche soprattutto però mi verrebbe da dire al clima di serenità che abbiamo tutti insieme percepito durante questo mandato io non posso lamentarmi mai e non lo farò mai di come l'intera comunità universitaria dal personale docente al personale non docente fino agli studenti è stata coesa cercando di affrontare qualsiasi problema si ponesse di fronte e trovando sempre il modo di individuare soluzioni condivise avendo tutti insieme come obiettivo soltanto l'obiettivo di fare il bene del nostro Ateneo che poi significa anche fare il bene della nostra città e vorrei anche sottolineare il profondo legame che si è costituito tra le tantissime istituzioni e associazioni della città il comune la provincia la fondazione Montepaschi il mondo imprenditoriale le associazioni le contrade in ogni momento di questi sei anni cinque anni e mezzo abbiamo sempre lavorato tutti insieme per il bene della città per quanto riguarda il futuro ovviamente le sfide sono molte il sistema universitario sta cambiando le prime sfide che mi vengono in mente sono quelle dell'attuazione del PNRR che in questo momento sta trasformando quasi è arrivato quasi come un ciclone sul mondo universitario ma un ciclone che porta effetti positivi nel senso che sono arrivate stanno arrivando risorse importanti come mai avevamo visto in passato adesso è finito il momento di lamentarsi della mancanza di risorse è arrivato il momento di essere in grado di dimostrare di poterle usare di saperle usare per la crescita di ogni ateneo e soprattutto per il progresso della ricerca della scienza e della nostra società poi chiaramente la pandemia lascerà qualche cosa lascerà qualche cosa soprattutto nelle modalità con cui viene somministrata non è una bella parola viene svolta all'attività didattica perché abbiamo fatto un'esperienza importante in cui gli strumenti digitali sono stati un supporto fondamentale non possiamo non tornare alla nostra abituale vita universitaria in presenza perché è ciò che caratterizza l'esperienza universitaria per i nostri studenti lo sanno bene i ragazzi che tra due giorni saranno in piazza del campo quanto importante esserci mi verrebbe da dire paradossalmente che non è tanto importante che ne so per seguire le lezioni perché ormai i contenuti si trovano in molte piattaforme ma è importante essere all'università per ciò che si apprende per come la vita universitaria è formativa nei confronti nei ragazzi è importante essere all'università per frequentare le biblioteche per frequentare i laboratori per frequentare le sale di studio per frequentare i cortili dove si fanno amicizie per frequentare tutte quelle iniziative collaterali allo studio penso ai laboratori di teatro penso ai corsi delle soft skills penso al coro dell'università cioè penso a tante iniziative che aiutano a costruire la personalità dei nostri ragazzi perché come diceva Rossella Postorino qualche giorno fa la presentazione del suo libro all'università ci si va con l'idea di quello che si vuole essere o diventare non quello che si vuole fare successivamente e questo credo sia un insegnamento grande per i nostri studenti e poi abbiamo e questa è una cosa un po' più tecnica di fronte a una sfida importante con riferimento al patrimonio edilizio perché nei prossimi giorni anche grazie ad un bando ministeriale appositamente dedicato alla ristrutturazione edilizia avremo le risorse per compiere importanti lavori di miglioramento di molte nostre strutture ovviamente a beneficio dei nostri studenti perché significherà ampliare il numero delle aule significherà migliorare la qualità degli spazi significherà nuovamente rendere quella vita universitaria in presenza molto più piacevole da vivere per i nostri studenti Rettore io la ringrazio per la sua testimonianza vi ricordo che potete tra l'altro seguire il graduation day di sabato a partire dalle 17 se non vado errato esatto dalle 17 in diretta anche su questa emittente quindi a livello regionale sul canale 84 live streaming ovunque in Italia sarà un momento solenne molto bello con appunto le 1500 studenti che da Siena inizieranno il loro percorso di vita poi di futuro professionale e quindi sarà un bel momento per tutti da condividere Rettore grazie grazie a voi per averci seguito e io vi ricordo che potete rivedere questo così come tutte le altre puntate con tutte le testimonianze dei nostri imprenditori all'interno sia delle pagine social di Confindustria Toscana Sud che della posita sezione step della web tv di Canale 3 grazie grazie a tutti